Buongiorno a tutti, benvenuti alla resegna stampa di FanoTV e a occhio ai giornali. Come tutte le mattine alle 7 puntuali in diretta siamo qui per informarvi. Quindi apriamo questa finestra informativa sulla nostra città, sulla provincia con la lettura dei titoli delle notizie più importanti che abbiamo selezionato per voi questa mattina come sempre dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico. Allora iniziamo dal Santo del Giorno, un calendario che vale per tutti. Il calendario oggi indica Santa Ronne, il sole alle 5.28 e tramonterà alle 20.57. Questa mattina partiamo così, inizia questo nuovo mese, luglio si apre con una splendida giornata di sole ma attenzione pomeriggio, ah ecco qua il tempo peggiora. Oggi pomeriggio trebimetro.com prevede soprattutto sulla costa pesarese, Fano, Pesaro, variabilità diffusa con piogge e piogge che interesseranno anche la fascia collinare. Vedete fino quasi al sud è esclusa la provincia di Ascoli Piceno, ma durerà poco perché già insomma vabbè questa è la serata, ancora un po' nell'Anconetano, nel Maceratese, ma venerdì 2 nella giornata di domani questa mattinata un po' di velature sulla costa pesarese-Anconetana, poi per il resto insomma qualche nuvola qua e là, ma niente di che, in attesa di che cosa? In attesa di un peggioramento annunciato dagli esperti che però a quanto pare già nella giornata di domenica nelle Marche non c'è più, è già cambiato di nuovo. Vabbè, insomma, restate sintonizzati e vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto godiamoci queste due gocce oggi pomeriggio che probabilmente non faranno felici i bagnanti e i bagnini con i quali adesso ci andiamo a collegare, in particolare con Laura. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Laura, non so se hai sentito, oggi pomeriggio cambierà un po' il tempo. Ma in realtà ci sia la probabilità di qualche goccia d'acqua all'ora di pranzo, però secondo me, visto adesso come il cielo e le temperature, mi sembra abbastanza improbabile, però mai dire mai. Senti, sottofondo Laura, abbiamo messo una canzone, non so se tu la senti, una rotonda sul mare. Vorrei che tu ti girassi un attimo, è la canzone celebre di Fred Bongusto, vorrei che ti girassi un attimo per inquadrare questa famosa rotonda sul mare, che è stata resa celebre, come dicevamo anche nei giorni scorsi, da Fred Bongusto, che veniva da quello che io ho letto un po' nei giornali, negli anni 60 era un assiduo frequentatore della spiaggia di Velluto. Sì, sì, è venuto anche pochi anni fa in realtà. Sì, nel 2019, quando poi è morto Fred Bongusto, era venuto quindi quasi 50 anni dopo a rendere omaggio a questa struttura, che lo ispirò e gli fece cantare questa canzone, che comunque ha reso celebre questa rotonda. Forse andrebbe sfruttata un po' di più, che dici Laura? Sì, decisamente, perché è una struttura che viene utilizzata veramente poco, principalmente ci fanno dei matrimoni civili, a volte ci sono delle cene con catering, perché non c'è possibilità di cucinare all'interno, mostre, congressi, però in realtà secondo me andrebbe valorizzata e fare tipo una balera, una sala da ballo, anche per le persone di una certa età, che in realtà in estate qui hanno ben poco da fare, diversamente. Certo, è un po' una struttura sospesa tra cielo e mare, come si dice poeticamente. Bene, allora noi ci vediamo domani mattina, il penultimo collegamento di questa settimana, grazie come sempre e buon lavoro a te e un buon soggiorno ai tuoi ospiti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a Laura, ricordiamo Laura Tamburini da Mare Mio di Senigallia, la spiaggia Mare Mio. Allora, velocemente andiamo a vedere i giornali, allora, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, sconto Tari con trappole, un virgolettato, il Consiglio Comunale approva maggioranza il piano delle agevolazioni per attività e famiglie, ma la Giunta annuncia un giro di vite per sanzionare i trasgressori della raccolta differenziata. Centro pagina invece Vezzale e Salis, che scintille sul coni, la conferenza regionale, scontro sulla riforma dello sport, bufera nel Movimento 5 Stelle, Migliozzi e Cia, la eccola mappa dei marchigiani verso Conte, l'avvocato ed il comico. L'avvocato Conte, il comico Beppe Grillo, il premier e il fondatore. La ragione ed il sentimento, la dicotomia tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo agli antipodi sotto diversi aspetti rischia di creare una frattura difficilmente sanabile all'interno di un movimento da tempo in crisi di identità. In prima linea la deputata e facilitatrice per le marche, Mirella Emiliozzi. In questo articolo che troverete a pagina 4 e 5 si fa un po' la previsione di chi potrebbe lasciare il movimento per seguire la nuova creatura di Conte. Operazione Navette invece, parliamo di trasporti verso le spiagge. È un mezzo flop, la gente vuole arrivare in spiaggia con i propri mezzi, non ne vuole sapere di utilizzare queste navette. Genitori con il bimbo sloggiati dal parco, il parco Il Miralfiore, serata senza pace, vedremo di quale disavventura si tratta. Poi ottima gestione invece a Fano per Aset, redditività aumentata nel 2020. Poi un risarcimento che prevede un vitalizio, storica sentenza del Tribunale, riconosciuta l'imperizia di Marche Nord, la giustizia civile ottiene garanzie per tutta la vita di un bambino. La storia la vedremo tra poco. Universitario con la droga in camera è stato denunciato. Questo invece è il resto del Carlino. La fotonotizia è per la spiaggia tecnologica, detta 4.0. Siamo lontani, qui gli stabilimenti del nostro ritorale ancora sono molto tradizionali. Ci sono spiagge ovviamente dove tu puoi avere servizi, basta semplicemente con il cellulare, ormai non ci si alza più nemmeno dal lettino, diventeremo fra i prossimi anni tutti obesi perché accendiamo le luci con il cellulare, il forno con il cellulare, il frigo, fra un po' arriveranno i mini robot e quindi noi staremo comodamente tutta la vita seduti su una poltrona perché il resto lo faranno appunto le macchine. Questo è il futuro, 50 anni, non lo so, 100 anni, forse mi sbaglio, spero di sì. Errore medico, cieco dalla nascita, ora l'ospedale deve garantirgli una rendita per il resto della vita, la richiesta accolta dal giudice di una coppia per il loro figlio. Nozze, la retromarcia del comune, il comune è quello di Pesaro, il sindaco Ricci revoca l'ordinanza che vietava il lancio di riso e anche di petali sugli sposi, troveremo altre soluzioni. Ricordiamo che i matrimoni sono soltanto quelli civili e le location, le location sono quelle ovviamente che non interessano, il divieto non interessava le chiese, che hanno un regolamento a parte. Crea, anzi scusate, crack, banca Marche, la Commissione europea non ha colpe, questo è il ricorso respinto, poi la lettera di un albergatore, chioschi al mare ingigantiti, ecco perché c'è rumore. Poi sui vaccini c'è polemica perché sull'eterologa proibita, cioè il cambio di vaccino, chi ha fatto AstraZeneca vorrebbe fare un altro vaccino, però è proibito agli over 60, scatta dunque la protesta. Qualcuno dice perché il Premier sì, il Premier Draghi che ha fatto AstraZeneca e poi si è fatto fare Pfizer e noi invece no. L'ultimo paziente dimesso chiude il Covid Hospital di Civitanova, l'assessore Salta Martini dice pronti però a riaprirlo, ma speriamo di no, che faccia le ragnatele e poi la bomba da mortaio finisce nel cassonetto a Fano, un singolare ritrovamento. Cercano un motorino ma trovano l'Ascish, carabinieri in azione a Isola del Piano. Dunque chiude il Covid Center, Salta Martini dice per ora resta tutto in stand by, non ci saranno cambiamenti alla fiera di Civitanova, ieri 15 positivi, cluster dopo una festa a San Benedetto, dunque non abbassiamo la guardia. Allora il dato, la buona notizia appunto, è che al momento la variante Delta è ancora sotto controllo, quindi questo è il dato positivo. L'invito però è quello di non abbassare la guardia sulla variante Delta e sulla necessità di sottoporsi alla vaccinazione, questo dice Salta Martini, perché appare dimostrato che le mutazioni non abbiano effetto sulle persone immunizzate. In realtà non è così perché, se andiamo sul resto del Carlino, ma ce lo dice anche la scarna letteratura medica che si sta scrivendo in questi giorni, giorno dopo giorno su questo virus. Vaccini, no, quest'altra pagina qua, andiamo sulla pagina di Senigallia, parla il direttore dell'area vasta 2 Giovanni Guidi. Allora a proposito di che cosa? Della variante Delta, ci sono cinque casi, tra cui c'è una centenaria, il direttore fornisce la situazione del senigalliese, tre pazienti non erano stati vaccinati, che significa che se sono cinque e tre non erano vaccinati, ma due lo erano, quindi due sono vaccinati e tre no. Tra questi c'è anche una centenaria. Dunque, scrive Sara Ferreri sulle colonne del Carlino di Senigallia, variante Delta sorvegliata speciale nel senigalliese, dove nelle ultime ore sono stati accertati cinque casi e tra questi tre persone non erano state vaccinate. Fra i cinque c'è anche una centenaria che presentava sintomi da Covid, accertato poi con tampone. I suoi familiari avevano deciso di non richiedere per lei la vaccinazione, ma proprio nella coda di questa terribile pandemia l'anziana si è infettata. E Guidi, cosa dice il direttore dell'area vasta 2? Qui ci sono cinque positivi di cui tre non vaccinati, come una signora appunto di 100 anni. In generale il virus sta fortunatamente allentando la presa, ma non abbassiamo la guardia. Vedete, anche lui dice la stessa frase, che sembra una frase fatta, ma che in realtà è l'unica frase che dia l'idea di cosa dobbiamo fare, cioè non abbassare la guardia. Le analisi sulle varianti in realtà vengono effettuate a campione. Questo è interessante, questo passaggio. Ascoltatelo bene, le analisi sulle varianti vengono effettuate a campione e il numero è solo indicativo, perché i casi della variante delta sono cercati attraverso un sistema random. Cosa vuol dire? A casaccio, cioè capito? Non in fila o andando a ritroso con i tracciamenti, eccetera. No, a random, un po' qua e là. Cioè attraverso un campione di tamponi rispetto al totale di quelli risultati positivi. Su 100 positivi, per esempio, ne vengono presi 20 a random a caso e lì si guarda se dentro c'è la variante. Ma tutti gli altri 80 che non vengono controllati, come dire, eccetera, sequenziati e tutto, potrebbero contenere varianti delta, ma non lo sapremo mai. Rimangono nel cassetto. 80 ignoti. Quindi significa, in altre parole, che i casi possono essere, e sicuramente lo sono, di più, quindi come variante delta, ma non tali per adesso da compromettere la positiva tendenza di fondo. La tendenza di fondo, chiaramente, è quella che stiamo vedendo noi in questi giorni, ovvero che, anche ieri, nella nostra regione, segnavano 15 positivi. Nella provincia di Pesaro, soltanto due in testa, Ascoli Piceno, se non ricordo male, con sette. Ecco, questi sette, evidentemente, sono parte di un nucleo, che può essere un nucleo familiare, qualcosa del genere, perché altrimenti è difficile che ci sia questo exploit in una provincia così, senza grandi motivi. Oppure c'è una festa, un qualcosa che ha visto un positivo, a contatto con molte altre persone, e lì si sono infettate. Quindi, come vedete, insomma, è vero che sono pochi positivi, ma è anche vero che c'è sempre la possibilità di infettarsi, c'è sempre la possibilità di incontrare qualcuno che sia positivo, asintomatico, e dunque ve lo possa attaccare. Quindi che cosa fare? Molto semplice. Bisogna stare, anche in questi casi, soprattutto se si è chiuso, in stanze chiuse, tenerle ventilate, aperte, ed estate non è difficile, ma soprattutto mantenere le distanze. Ora, getta un ordigno, qui siamo nella pagina di Fano, getta un ordigno nel bidone, artificieri al centro rifiuti, un cittadino ha così pensato di disfarsi del residuato bellico, ad accorgersi, sono stati gli operatori dell'ASET, per fortuna il risultato non essere esplosivo. Ma c'è una notizia che pubblica sempre il giornale, il Calino questa mattina, la morte dell'anestesista Ferdinando Giuliano, lo vedete in questa fotografia, un volto notissimo, ovviamente, un volto notissimo, aveva 84 anni, professionista di grande spessore umano e culturale, dotato di grande intelligenza, pacatezza e generosità. Il dottor Giuliano era arrivato a Fano nel 1981, per oltre 15 anni si era dedicato al lavoro senza mai risparmiarsi, agendo sempre per il bene dell'ospedale fanese e soprattutto dei malati. È morto a Napoli, sua città natale, è stato primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Fano. L'azienda, tra l'altro, ricorda il Carlino, nel 1996 cercò di trattenerlo in servizio, ma Giuliano preferì lasciare ai suoi allievi, continuando a vivere a Fano, in via Garibaldi, fino allo scorso anno, quando poi rientrò a Napoli. Questo è quello che scrive il Carlino questa mattina. Fano Sud salta il tutor, chiesti tra autovelox, vi ricorderete l'altro giorno commentando la notizia della morte di quella persona, di quell'anziano settantenne che stava portando gli sfalci in un cassonetto che è stato centrato da un'automobile ed è morto sul colpo. Io dissi in quel caso mettiamoci piuttosto che attendere o fare progetti faraonici anche costosi nell'immediato metteteci un tutor così come era avvenuto e come è avvenuto invece sulla Statale 16 Sottomonte. Oggi il giornale per bocca dell'assessore Sara alla Polizia locale Sara Cucchiarini dice il tutor è installabile solo nelle strade prive di intersezioni. Ecco questo è un dato che ovviamente a me mancava non essendo un tecnico non essendo un esperto e quindi non è possibile installarlo in questo tratto di metauriglia perché lì ci sono gli incroci ci sono le intersezioni e quindi se uno viene registrato all'ingresso da una parte poi gira strada va dall'altra parte si perdono quindi si rischia di rendere vano questo sistema anche perché magari dopo 50 metri decide di girare a sinistra ma il primo tratto lo fa a 100 km orari poi si salva perché comunque gira ed esce fuori dall'occhio elettronico quindi diciamo che senza intersezioni il tutor non si può mettere però tre autovelox questi sì autovelox che però a questo punto è auspicabile che siano presidiati o meglio che ci siano dentro le macchinette fotografiche perché altrimenti dopo tre volte che ti accorgi con l'occhio che dentro non c'è niente perché è caldo perché quello che è insomma è chiaro che poi la gente fa finta di niente e tira dritto quindi insomma facciamoli funzionare soprattutto in quei tratti molto molto complicati il gioco come insegnamento invece la pagina di fano del Corriere Adriatico fano si consegna ai bambini il programma del trentennale del laboratorio di Tonucci arriva al 2022 con tanti temi poi c'è ci sono le colonnine per la ricarica delle auto elettriche auto elettriche che cominciano a essere sempre di più ci sono aziende case costruttrici come la Opel che se non ricordo male ha addirittura tolto dalla produzione le auto a metano e sta puntando tutto su sull'elettrico molte sono le aziende che costruiscono l'automobile appunto che puntano sulle auto elettriche però poi ci devono essere le ricariche soprattutto devono trovare inventare qualche sistema per accelerare i tempi perché non è che si può tenere stare un'ora per ricaricare la macchina collocate però questa è la notizia in dieci punti cittadini a fano queste colonnine che sono però ancora impacchettate quindi non sono utilizzabili il piano secondo qualcuno è in ritardo a fano di tre anni poi sull'altra pagina quella di sempre del Corriere pagina 23 ottima gestione per Aset aumentata la redditività l'utile cresce del 17% fino a 4,1 milioni di euro ma secondo il Movimento 5 Stelle la politica è sbagliata qui nella foto vedete il presidente Paolo Reginelli che ha snocciolato un po' di numeri e ha illustrato in Consiglio Comunale il consuntivo dell'azienda riferito al 2020 mentre sulla riduzione della Tari la Lega è insoddisfatta Pesaro ha fatto molto meglio dice di Fano poi un tamponamento sul ponte anziano portato al pronto soccorso un tamponamento fra due Fiat Panda ieri mattina intorno ai 10.30 sul vecchio ponte del fiume Metauro a Fano e poi addio all'ex primario Giuliano di Resse per 15 anni il reparto di animazione a Fano aveva 84 anni le esecue a Napoli la rivincita degli sposi è l'altra notizia se vogliamo curiosa che riguarda Pesaro tornano riso e fiori il sindaco revoca immediatamente l'ordinanza era eccessiva troveremo altre soluzioni per evitare di creare degrado ai luoghi pubblici ora resta da capire come mai i due non si siano parlati o comunque questa ordinanza sia partita così all'improvviso prendendo alla sprovvista Matteo Ricci che solitamente pare essere sempre super informato e abbia sempre tutto sotto controllo nella sua città in realtà gli è sfuggita questa cosa che insomma non è un granché dal punto di vista dell'immagine così come non è un granché questa notizia che scrive Lorenzo Furlani questa mattina sempre da Pesaro con un titolo che insomma Pesaro un'estate senza pace genitori con bimbo sloggiati una disavventura di una famiglia che non trova una panchina dove mangiare la pizza che detta così insomma sembrerebbe vabbè adesso questi sono i problemi no in realtà poi è descritta molto meglio nel senso che questa famigliola giovane con un bambino di 4 anni martedì sera era uscita di casa insomma per stare un po' un po' in giro per la città mangiarsi una pizza tranquillamente appoggiarsi in una panchina voleva evitare Viale Trieste con tutto il caos che c'è in questi giorni estivi e quindi ha optato per andare al Miralfiore arrivato al Miralfiore dieci minuti dopo le 8 di sera che cosa è successo? hanno trovato una panchina un po' di refrigerio però a un certo punto è arrivato un uomino gli ha detto signore scusate dovete alzarvi e uscire di qui perché? perché il parco impegnato tra poco inizia un evento di danza e quindi questi qui che erano belle pronti un po' dopo aver cercato parcheggi a destra e sinistra parcheggi introvabili sul lungomare di Pesaro insomma alla fine sono dovuti slogiare anche dal parco Miralfiore perché alle 8 c'era questo evento non segnalato tra l'altro all'ingresso del parco stesso quindi insomma un po' alla sprovvista perché altrimenti se avessero letto un cartello che alle 8 il parco avrebbe chiuso o comunque sarebbe stato disponibile solo per quelli che erano lì per la danza avrebbero si sarebbero risparmiati insomma la fatica e l'illusione che poi ha generato chiaramente il risentimento e la rabbia risarcimento invece anche con Vitalizio una storica sentenza del Tribunale di Pesaro riconosciuta l'imperizia di Marche Nord la giustizia civile ottiene garanzie per tutta la vita a un bambino il 30 giugno del 2012 un bambino viene alla luce all'ospedale San Salvatore di Pesaro la madre viene ricoverata la 31esima settimana dopo qualche tentenamento la struttura non possiede come dal resto anche attualmente un reparto neonatale dotato di strumentazione adeguata alla rianimazione dei neonati che nascono in condizioni particolarmente difficili e quindi che cosa succede? succede che al momento della nascita questo bambino ha dei problemi alla respirazione Marche Nord non ritiene di dover trasferire questo neonato in una struttura di terzo livello come a Rimini oppure a Salesi di Ancona insistendo nel ventilare il paziente con strumenti non adeguati alla situazione insomma questo bambino dopo un mese viene dimesso però non sta bene ha lesioni gravissime al cervello che gli provocano un deficit cognitivo al 100% e paralisi agli arti questa è la storia e adesso il tribunale ha sentenziato e quindi la famiglia sarà risarcita per tutta la vita insomma garantita questa questa con questa sentenza un vitalizio che certamente è sempre una magra consolazione perché quando c'è di mezzo la salute e degli sbagli che non dovevano essere fatti è una magra consolazione non ci sono soldi non ci sono cifre che possano aggiustare le cose però è così divampano gli incendi ieri è stata una giornata caldissima abbiamo sentito tutti 35 gradi 36 gradi almeno qua dalle nostre parti pur essendo in una città di mare Fano ma insomma una giornata difficile che ha causato che ha visto molti incendi Focolai svilupparsi un po' sia a Fano che a Pesaro ma anche all'interno quindi vigili del fuoco pompieri sempre in azione insomma dalla mattina alla sera divampano gli incendi questo è il titolo siamo a Colli al Metauro minacciato un'azienda la società fida l'ambita dal fuoco aggredita una casa disabitata vi abbiamo fatto vedere le immagini ma poi altri roghi a Bellocchi vicino a una pompa di carburante e anche ad un campo di Sterpaglia d'Urbania ma anche per esempio davanti al Bricofer a Pesaro fiamme che hanno lambito l'autostrada a 14 e se da una parte c'è il fuoco dall'altra c'è l'acqua ma un'acqua che sta scarseggiando perché ovviamente la siccità sta complicando un po' le cose e non credo che la pioggia di oggi risolverà il problema intanto scattano i divieti divieti di prelievi dal bacino del Metauro la regione impone la misura per la grave siccità sanzioni fino a 30.000 euro poi chiaramente ci sono delle deroghe nel senso che qualcuno può continuare a prenderle ma sono soltanto quelli che devono dare da bere al bestiame piuttosto che all'uso idropotabile eccetera eccetera ma questi distinguoli troverete sul giornale di questa mattina furlo cartelli stradali da aggiornare per il divieto gli operatori temono di essere tagliati fuori dal movimento turistico qualcuno ha pensato vedete qua sotto di scrivere semplicemente furlo prossima uscita non era difficile scriverlo in modo ufficiale ma evidentemente qualcuno un po' sbadato non ci ha pensato ma ci hanno pensato per fortuna i residenti che hanno risolto in parte il problema ai turisti che non conoscono la zona e che quindi magari vorrebbero visitare il furlo anche se il furlo è un po' messo così con tutti i divieti e quant'altro studente con la droga in camera perquisizione dei poliziotti ad Urbino al college universitario gli trovano 10 grammi di marijuana denunciato in stato di libertà le indagini proseguono per individuare fornitore e cliente mentre ricorderete ve l'abbiamo raccontato l'altro giorno sempre dalla segna stampa di quelle due ragazze che sono state rapinate con un da un ragazzo con un coltello una lama di 15 centimetri c'è ottimismo da parte dei carabinieri di Urbino sulla soluzione del caso tra l'altro scrive il giornale questo rapinatore avrebbe le ore contate perché i carabinieri di Urbino avrebbero individuato il giovane e sarebbero vicinissime alla soluzione del caso andiamo a vedere velocemente l'altra pagina da Vallefoglia siamo a Colbordolo un ex tassista quindi si dà per scontato uno che insomma vive ha vissuto e ha lavorato dentro una macchina quindi che la sappia guidare senza problemi eppure non è una questione di saperla guidare evidentemente era un po' distratto ex tassista contro mano panico per due chilometri la guida folle sulla strada per Urbino carabinieri evitano una tragedia è successo ieri appunto nella strada che da Corbordolo va verso Urbino e i carabinieri hanno scongiurato un frontale molto probabile è successo il pomeriggio intorno alle 18 siamo nelle pagine dedicate allo sport ma soprattutto al Fano rottura tra società e tifosi titolo del Corriere di oggi supporter del Fano a questo punto preferirebbero una serie D solo con personaggi locali il club ha comunque dato mandato a un legale di verificare se ci siano ancora speranze per la serie C il Corriere invece scrive Alma Juventus Fano la quarta serie è sempre più vicina il presidente valuterà se continuare a rimanere in sella la società magari ricevendo aiuti economici come avrebbe promesso il sindaco allora è tutto l'informazione su Fano TV torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per tutte le segnalazioni che ci avete mandato ieri al 338 49 68 250 continuate pure a segnalarcele perché ci date veramente una grande mano e poi vi ricordo stasera alle 21 uno speciale dal titolo Fano per Dante sulle iniziative che si tranno Fano per commemorare Dante a 700 anni dalla sua morte grazie per averci seguito buona giornata a tutti voi grazie a tutti